Si è tenuto presso l'Aula Consigliare del Comune di Agropoli l'incontro chiarificatore sul piano per il lavoro riguardante 10.000 assunzioni nella pubblica amministrazione, un importante momento di confronto e discussione sul piano del lavoro messo in campo dalla regione Campania, dove in un momento storico molto complesso rappresenta l'unico strumento di politiche del lavoro attivato a livello nazionale. Diciamo che abbiamo fatto un convegno dove si chiarisce come funziona questo mega corso concorso indetto dalla regione Campania insieme a Formez PA, praticamente ci sono le adesioni già di 284 enti comunali che hanno fatto richiesta di adesione al concorso, i posti dovrebbero essere intorno ai 10.000, saranno aperti a tutte le categorie, quindi ci sarà possibilità sia in categoria C che in categoria D e potranno partecipare tutti. Era anche chiarificatore per quanto riguarda che è un concorso aperto a tutti, che non è che se il comune di Agropoli non aderisce il cittadino di Agropoli non può partecipare al concorso, anzi è una cosa che non c'entra, non esiste ed è stato buono far passare e far capire bene questo messaggio perché in passato c'è stato qualcuno che ha fatto credere il contrario. Un'occasione è stata ieri secondo me importante e ne rifaremo altre, dove sia la regione Campania e Formez insieme anche a Lifel si sono preoccupati e hanno preso con grande energia la possibilità di poter venire ad Agropoli, nonostante il comune di Agropoli in questo momento non abbia aderito ancora al corso concorso, anche se in futuro, sicuramente brevissimo futuro ci sarà la possibilità perché si riaprirà la possibilità di poter aderire. Io spero che lo faccia anche l'Unione dei Comuni, anche se molti comuni appartenenti all'Unione dei Comuni Alto Cilento hanno già aderito e diciamo qui nella doppia veste essendo un dipendente del Formez farò di tutto per essere presente con il Formez e con la regione Campania su questo territorio per rendere tutte le informazioni possibili e le indicazioni possibili ai nostri concittadini.